I carabinieri della compagnia di Roccella Ionica hanno arrestato tre ganessi ed un nigeriano, tutti residenti a Monasterace Marina, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 30 aprile, i carabinieri impiegati in molteplici servizi finalizzati a rispetto di norme anti-coronavirus, hanno notato Salah Ayage, 26enne gambese, che si aggirava a piedi lungo la strada statale 106 tra i comuni di Riace e Monasterace. Insospettiti dalla presenza insolita dello straniero lungo quel tratto di strada, lontano dal centro abitato, i militari hanno deciso di controllarlo, riscontrando all'interno della tasca dei pantaloni la presenza di 12 grammi di marijuana. E il controllo, esteso anche al luogo di dimora, ha consentito di assistere ad una vera e propria compravendita di stupefacente. Infatti, all'arrivo dei carabinieri, i due conquilini di Salah, Yaloibrahim, 30enne, e Niassi Omar, 22enne, anch'essi gambesi, stavano cedendo 27 grammi di marijuana a Ekies Silvester, 27enne, nigeriano. La perquisizione all'interno dell'appartamento ha consentito ai militari di rinvenire tre buste di cellofan contenenti circa 800 grammi di marijuana, materiale atto al confezionamento delle dosi e banconote di piccolo taglio provento dell'attività illecita. I tre sono stati arrestati con l'accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I tre connazionali sono stati anche tradotti presso il proprio domicilio in attesa dell'udienza di convalida. Successivi accertamenti svolti sul conto dell'acquirente, Ekie, hanno consentito di accertare a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Parma per reati in materia di stupefacente, pertanto anche egli è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Locri.